Si dice stufo il movimento delle partite IVA-Brenisino che scrive una lettera aperta al governatore della regione Puglia Michele Emiliano una richiesta di risposte concrete di una serie di problemi comuni a numerosi imprenditori penalizzati da questa fase di incertezza. Le partite IVA tornano a chiedere anche un confronto con la regione per affrontare i temi più difficili non solo della questione presente ma soprattutto di quella futuro che mette a rischio non solo parte dell'economia locale ma anche numerosi posti di lavoro. Un invito al governatore Emiliano a riceverci o quantomeno venire a Brindisi per parlare con noi e trovare delle soluzioni alternative alla crisi che si sta vivendo. Questa seconda ondata non la possiamo far passare come un'emergenza perché per emergenza noi dobbiamo pensare a un qualcosa di imprevisto. Si parlava di questa seconda ondata fin dalla prima. Le soluzioni c'erano, non sono state prese delle precauzioni in tempo e adesso chi ha la tranquillità del posto fisso è molto tranquillo ma tutti gli altri non lo sono. Ci sono un sacco di attività che rischiano di chiudere e di non riaprire mai più. Lavoratori che rimangono a casa, i ristori non sono abbastanza. Chiediamo al governatore di intervenire. Un incontro con noi gruppo partite IVA per chiarire finalmente quali aspetti la regione intende prendere per salvaguardarci. Grazie. Grazie.